Perfetto, buonasera a tutti, Stefano Tamiazzo qui con voi, direttore artistico della sede di Padova di Scuola Comic e a fianco l'amico Vittorio Bustaffa che è il coordinatore del corso di illustrazione, oltre che essere uno degli insegnanti a fare varie pillole nei vari corsi. Rubo 90 secondi, dopodiché lascio la parola fino alle 19 a Vittorio e poi gli ultimi, come dire, avremo un po' di minuti, una decina circa per rispondere a alcune domande che vedremo eventualmente in chat. Il corso di illustrazione è un corso triennale, tre anni, la frequenza è di due giorni alla settimana, che rimarranno poi quei due giorni anche per il secondo ed il terzo anno, la possibilità di poter partecipare alle lezioni potendo scegliere un turno al mattino dalle 10 alle 13, un turno pomeridiano dalle 15 alle 18 e un turno serale dalle 18 e 30 alle 21 e 30. La lezione è la medesima con lo stesso insegnante, ma semplicemente c'è la possibilità per chi, come da noi, viene da tutto il nord-est, intendo Friuli, Veneto, Trentino, Alto Adige, diciamo in genere Bologna e Ferrara a salire, visto che Padova ha la fortuna di essere uno snodo ferroviario molto importante e facilmente raggiungibile. È un corso che ha proprio come tutti i corsi di Scuola Comics nella bottega artigianale il suo nucleo principale, una dozzina di insegnanti che fanno il mestiere, che lavorano per editori differenti, con metodologie tecniche differenti e che incontrerete nell'arco dei tre anni. Questo tempo strano vuole comunque che noi ci si sia attrezzati per continuare e finire l'anno scolastico, così come ci state vedendo in questo momento. Per l'anno prossimo ovviamente si spera di rientrare, ma nel caso siamo attrezzati comunque per poter proseguire le nostre lezioni. Io mi escludo, ci rivediamo intorno alle 19, lascio la parola a Vittorio Bustafa e i suoi lavori straordinari. Ok, grazie Stefano. Bene, saluto ancora tutti, ovviamente grazie per essere qui con me. Io vorrei partire da un concetto fondamentale, cioè che cos'è in fin dei conti illustrazione prima di tutto. È sempre stata un po' vista nel corso del tempo come un po' l'ancella secondaria della pittura, dell'arte di per sé, eccetera. Mentre invece oggi l'illustrazione significa produrre immagini, produrre immagini va addirittura anche oltre a commentare un testo spesso oggi, perché siamo in una società di immagini e l'immagine a volte può essere un veicolo veramente potentissimo di significati, a prescindere appunto dalla direzione alla quale è appunto la funzione esatta di un'immagine. Quindi in realtà quando si parla di illustrazione si parla di un campo vastissimo in cui sono implicate l'editoria, sono implicate editoria di vario genere, dal magazine all'illustrazione per ragazzi, eccetera, fino alla concept art. La cosa forte dell'illustrazione è che in realtà prima forse era un'ancella secondaria, ma adesso diventa il veicolo più forte per qualsiasi tipo di livello culturale dei fruitori e di conseguenza questo bisogna tenerne bene in considerazione. Dunque a Padova abbiamo impostato questo tipo di filosofia, cioè che diceva appunto anche prima Stefano, il fatto che sia importante per noi partire dalla tradizione, ma che cos'è la tradizione? La tradizione rispetto anche alle nuove tecnologie che si usano significa sostanzialmente partire dalle mani, capire i materiali a partire dall'uso proprio tradizionale, cioè non una sorta di... l'uso tradizionale quindi dalle tecniche. Il nostro corso nell'arco dei tre anni affronta tutte le tecniche pittoriche, cioè a partire dall'acquerello, il guazzo, la tempera, fino poi anche l'ultimo anno anche con le nozioni di pittura d'olio o così. I tre anni sarebbero in realtà da considerarsi ormai quasi una sorta di triennio base, di norma, è necessario anche appunto fare un quarto anno per accedere anche alle nuove tecnologie, ovviamente perché chiaramente oggi è necessario anche avere un riscontro forte con altre tecnologie, tecniche non so tradizionali. Però siamo convinti che partire dalle mani, come dire, partire dalla materia possa avere delle potenzialità fortissime soprattutto nell'ambito sperimentale, cioè quando uno sta cercando un po' chi è una propria identità nel disegno. Si dice cercare un proprio stile, a me piace parlare di più di linguaggio espressivo, cioè significa quindi avvicinarsi e chiedersi come faccio a diventare più bravo a disegnare, a parte che bisogna dire anche in funzione di cosa, ma soprattutto qual è il mio linguaggio che sostanzialmente può veramente darmi dei riscontri sia sul piano professionale ma soprattutto anche sul piano personale. E quindi di fondo naturalmente il corso è strutturato in due settori, dove ci sono docenti che si occupano solo di aspetti prettamente tecnici e poi docenti che invece fanno da complemento con materie molto specifiche, come ad esempio l'editoria per ragazzi, per bambini, materie anche che riguardano ad esempio il marketing, anche il come ci si presenta nel mondo anche costantemente, tra l'altro in trasformazione. I docenti tecnici invece si occupano delle materie fondamentali come anatomia, prospettiva, nel caso di illustrazione io approfondisco anche l'aspetto della teoria della percezione, la teoria del colore applicata, come fare scale cromatiche, quindi per avere sempre una logica e una direzione. Sostanzialmente alla base c'è l'idea, ci sono due idee fondamentali. Il primo è capire che cosa significa veramente fare qualcosa di inedito per se stessi e per il mondo dell'illustrazione, o il mondo specifico dell'illustrazione, o del concept o dell'editoria, cioè quindi come arrivare all'innovazione, come cambiare idea, come cambiare quindi anche i significati. C'è la possibilità di esprimere una discontinuità che è difficile se costantemente siamo sempre vincolati a processi razionali, e anche naturali, e anche abitudini, quindi anche come uscire dalle abitudini. Questo è un punto centrale nei nostri esercizi. Ecco, l'altra parte appunto è una parte che ha a che vedere con non solo la specializzazione, ma con l'idea che proprio per dare più forza anche ad aspetti teorici che sempre di più oggi emergono. Che cosa intendo per questo? Cioè sono modalità che riguardano anche l'aspetto teorico sostanzialmente, cioè l'aspetto dove c'è un po' anche restituire anche al pensiero che serve per dare i significati all'immagine, perché spesso si relega a volte in maniera anche eccessiva il disegno alla funzionalità, cioè si dice basta che il disegno funzioni in quel settore lì e non c'è bisogno di aggiungere altro, ma in realtà questo non permette poi un domani di avere dei mezzi su cui ripensare il proprio linguaggio sulla base dei cambiamenti. Io sono 15 anni che faccio corsi per adulti, 12 anni che lavoro a Padova, e ho visto sempre i corsi cambiare di anno in anno con degli sviluppi diversi, in base proprio ai cambiamenti del mondo esterno, soprattutto poi non parliamo poi adesso degli ultimi tempi, che dopo il 2020 forse non sarà più, neanche più come prima, e vedremo le conseguenze, ma ecco la creatività rimane uno dei punti forti, cardine, per anche ripensare, avere una mente più fluida, per cercare di uscire anche da certi impassi, e quindi la tradizione serve per avere dei mezzi, non tanto per rifare la tradizione, ma per vedere dei mezzi proprio per ripensarsi, quindi fare e affrontare fondamentalmente quelli che sono i fondamenti dell'arte e del disegno, cioè quindi capire che cos'è il segno, lo spazio, le relazioni, che cos'è la forma, la psicologia della forma, ecco quindi che questo aspetto sperimentale per noi è costante, è costante un po' anche in tutte le materie, e i presupposti per accedere sempre a questa modalità sono appunto quelli di restituire prima di tutto maggiore senso critico, quindi aumentare anche il concetto di un processo di conoscenza che non è più relegato solo alla logica, alla razionalità, ma anche all'estetica, all'estetica proprio a un'educazione dell'immaginazione, un'educazione dei significati che si fanno, cioè essere sempre più coscienti, autocoscienti di quel che si fa, e quindi capire che cos'è un'autoanalisi da un punto di vista anche tecnico, poi appunto vi farò anche vedere poi a livello pratico alcuni aspetti. Poi un altro presupposto fondamentale è quello di aumentare il senso critico, cioè cercare di sollecitare a scoprire le scoperte che però si configurano come delle falsificazioni di convinzioni, credenze, abitudini, cliché, superare l'effetto speciale per entrare veramente magari anche in un segno appunto che possa veicolare dei significati che non solo soddisfano la funzione che deve avere l'immagine per un determinato prodotto, ma che possano aggiungere anche qualcosa in più, quindi entrare nell'innovazione in un cambiamento, però innovazione ha qualcosa a che vedere appunto con la collettività, quindi cercare di uscire da questa sorta di teoria a volte dove è intorno una teoria di centralità dell'io, a discapito della collettività in realtà. Dove c'è la centralità io mi esprimo come il mio mondo è questo, punto, basta, finito, e se ti va bene, bene, no, non funziona esattamente così, fare gli illustratori significa anche mettersi al servizio di, ma mettersi al servizio di un'industria, di un prodotto come dei marchi ingegni, vabbè, è abbastanza facile, poi con le nuove tecnologie è ancora più facile perché ti sistemano proprio il segno, invece la sperimentazione manuale, pratica, da bottega, ti permette di avere un rapporto con la casualità, con la materia, non con la memoria della materia che sia nel digitale, in una maniera più, diciamo, anche più rischiosa, che ti abitua di più a prendere delle responsabilità sui propri rischi che fai, e di conseguenza appunto si elimina questa cosa come l'io, come qualcosa di identità fissa, come qualcosa di stabile, duraturo, no, l'io, anche io stesso devo cambiare, anche gli artisti più grandi alla fine sembra che abbiano lo stesso stile, ma in realtà quelli più grandi, se vedi il primo lavoro dall'ultimo, ci sono delle variazioni all'interno che determinano appunto una maggiore consapevolezza di quello che si fa, e anche dei cambiamenti, se penso anche solo Sergio Toppi, eccetera, gli ultimi disegni non sono, anche se c'è una grande coerenza. Poi c'è un'altra cosa fondamentale nel nostro corso che si dà molto risalto anche all'aspetto emotivo, cioè non si può insegnare disegno senza pensare che ognuno abbia nature differenti, e quindi anche l'esperienza legata a una teoria dove i processi cognitivi sono legati appunto a un'educazione dell'immaginario, dell'immaginazione. Ecco perché appunto, scusate, in tre secondi divento afono, ecco perché è così fondamentale per noi cercare sempre di più di avvicinarci anche con attività esterne, parallela alla scuola, con attività come alcuni aspetti di editoria specifica o anche di filosofia dell'arte, che permettano appunto un modo di mettersi in relazione anche sempre di più con i significati che si vogliono mettere all'interno delle immagini, oltre che il rispetto della funzione del prodotto specifico. E naturalmente quindi questo presuppone sempre una sorta di bussola sempre molto chiara che riguarda la gestione degli stadi creativi sia psicologici sia pratici. Ecco. Dunque adesso volevo così io cambierò telecamera in qualche modo per mostrarvi ho fatto una raccolta adesso di esercizi fatti durante più o meno recenti fatti durante gli anni della scuola e quindi adesso cambierò un attimo telecamera ecco qui c'è appunto il mio foglio partiamo con alcuni aspetti di disegno che appunto c'è diciamo c'è un aspetto classico che è quello diciamo cosiddetto lineare cioè dove c'è un rapporto di cassa toracica e bacino dove io costruisco il mio modello costruisco il mio modello con le mie proporzioni e sul quale poi io vado a costruirci l'anatomia e anche ad esempio non so i vestiti che mi servono per fare qualsiasi sorta di illustrazione eccetera ecco questo questo è un tipo di modalità di disegno ma è un tipo di modalità poi invece ce n'è un altro pittorico che al posto di partire dalla linea che impera su tutto perché di norma che cosa succede? si dice io ho il mio disegno e poi cosa succede? ci faccio il chiaroscuro che è la parte diciamo in pratica poi lo coloro e tutto quanto facciamoci una roba un po' più eccolo qua ci mettiamo vedete però qui c'è sempre la linea che in qualche modo genera il il disegno talvolta invece è utile cominciare a usare i materiali in maniera differente cioè la possibilità di muovere il segno in maniera differente mi dà modo ad esempio di utilizzare invece le masse in questo caso qui dove aspetti pittorici si fanno sentire molto più forti e non c'è più anche una sorta di di linearità cioè di primato quantomeno della linea ma di primato invece del chiaroscuro cioè è come partire direttamente dal chiaroscuro per ottenere degli effetti completamente differenti poi se questo poi viene applicato questo aspetto ad esempio questo modo di usare il segno è una gestualità che è molto diverso che usare una penna ottica è chiaro che abituarsi anche a cercare i propri automatismi psichici la materia quindi il il mezzo che si usa e la sua gestualità diventano estremamente certo io lo posso fare anche su aspetti digitali e naturalmente assolutamente non è che una cosa valga più o meno dell'altra cioè non ha importanza il mezzo finale con cui si fa è importante però il mezzo col quale si sperimenta all'inizio perché all'inizio io la matita la posso tenere in posizioni di questo tipo e faccio un gesto di un certo tipo se la tengo in questa maniera lo faccio in questa maniera se la tengo invece appunto così ho un altro tipo ancora di gestualità e posso variare in tanti modi la ricerca della forma poi naturalmente attraverso anche un approccio anche della teoria della percezione approfondita della psicologia della forma noi riusciamo anche in qualche modo a variare poi questi tipi di esercizi che sono compresi all'interno anche del mondo del corso triannale scusate ecco questo innanzitutto è l'aspetto del disegno quindi della ricerca della forma la linea la campitura quindi il segno lo spazio che appunto genera la forma cioè cercare la forma fare psicologia della forma non significa affatto dire faccio una cosa più allungata più storta più stretta ma in realtà è un atteggiamento a partire dall'automatismo di certe gestualità e quindi a un'autoanalisi costante nel trovare invece un'armonia tra le relazioni quindi che formano in qualche modo la relazione tra il segno quindi il contorno e il chiaroscuro della forma e il chiaroscuro dell'ambiente che occupa quindi la forma e quindi dello spazio spero di non incasinarvi troppo con queste con queste digressioni anche un po' teoriche ma ecco poi naturalmente qui ho appena accennato alcuni esercizi che si fanno molto molto tecnici dopo il scontato ovviamente che ci sia l'anatomia la prospettiva e tutto quanto che poi permette quindi di accedere agli aspetti pittorici nel vero senso della parola questo ad esempio per iniziare è uno dei primi esercizi in acquerello in cui si comincia a studiare la macchia del colore trasparente in linea trasparente dove abbiamo proprio come si fa un cielo come si gestisce appunto una macchia e poi i piani della prospettiva atmosferica in modo tale che ci sia appunto un primo approccio sulle basi dell'acquerello bagnato su bagnato il tipo di carte quindi c'è tutta la sperimentazione anche di questo tipo il cambiamento dello strumento come diceva anche Bruno Munari è fondamentale nella sperimentazione costante poi questo è uno dei primi esercizi poi sempre nello stesso modello ci sono altri altri ad esempio questo sempre sono esercizi di classe di acquerello dove si comincia a capire non solo la prospettiva atmosferica ma alcuni tipo riflessi le luci alcuni aspetti che riguardano proprio in questo caso il paesaggio il paesaggio è l'ideale per iniziare l'acquerello perché si fonda sulla gestione della macchia è di norma nuvole e terra e anche solo macchie diventano diventano fondamentali per poi andare sempre più magari nel dettaglio dove gli esercizi cominciano a essere un po' più un po' più complessi dove ci sono degli elementi come qui l'acqua l'acqua appunto diventa più complessa anche da gestire e quindi anche ci si avvicina anche a qualche intervento non so di conclusione anche di tecnica mista con qualche ritocco a tempera per avere magari più effetti che riguardino la schiuma dell'acqua eccetera fino poi ad avere tipo esercizi anche di questo tipo dove ci sono anche gli oggetti oppure il riflesso dei sassi capire un po' come si fanno queste cose qua ecco poi da queste cose che sono basilari della tecnica dell'acquerello che di solito si affronta un po' il primo anno si comincia a entrare in altri acquerelli anche più sperimentali dove il gesto diventa molto più libero in qualche modo diventa molto più libero e si comincia ci si comincia ad addentrare ovviamente io non posso farvi degli esempi pratici lo farei volentieri ma non ho proprio il tempo di dimostrarvi posso solo far vedere come le macchie appunto questo tipo di macchia sia molto diversa da appunto questo tipo di macchia che è molto più ordinata e anche qui molto più precisa quasi anche molto più realistica qui si comincia un po' a muovere la macchia quasi a rovinarla per arrivare anche a dei livelli di insistenza della materia come ad esempio questo piccolo esercizietto qui fatto nel quale c'è anche un'insistenza dell'acquerello o alcune cose per ottenere degli effetti non solo illustrativi ma che possano dare degli aspetti espressivi più personali ecco si punta moltissimo alla personalizzazione del corso cioè si arriva magari al terzo anno con gente che fa anche cose molto differenti tornando all'acquerello qui ad esempio ecco questo ad esempio c'è anche l'uso questo è un acquerello non finito in cui si si mette in evidenza la preparazione di un ambiente di un ambiente quindi si prepara prima il fondo così e poi naturalmente l'uso dei mascheranti eccetera per entrare poi nel dettaglio della figura questa ad esempio non è finita è pronta per essere colorata però per avere questo tipo di precisione così appunto si adottano dei materiali particolari che devono appunto essere ben analizzati analizzati le analisi tecniche sono molto molto dettagliate nel corso analisi sia da un punto di vista proprio il tipo di materiale la marca da usare la carta eccetera e poi lentamente si arriva alla personalizzazione cioè quello che noi poi preferiamo qua poi c'è un'altra variante dell'acquerello più legata alla concept art dove ad esempio l'acquerello è proprio come una sorta di bozza di sketchbook come dire e dove a volte anche si parte da una progettazione come questa in cui c'è una macchia dove la matita non esiste quasi più qui invece esiste cioè si sente proprio la matita con dei colpi di acquerello molto velocissimi ottenendo questo tipo di effetti quindi la variazione della tecnica è anche molto importante per arrivare poi anche ad analizzare poi gli effetti anche climatici oppure ad esempio come fare un acquerello come in questo caso qua con l'aiuto di appunto di non so di contorni segnati in un certo modo più chiari così mentre altri tenuti in maniera molto acquerellabile per cercare di di ottenere appunto l'effetto che si vuol dare adesso qui gli esercizi ovviamente esercizi in classe a volte può risultare un po' esagerato che questo sembra l'incendio della città più che un fuoco in un in un bidone sotto un ponte eccetera come spesso si vede in qualche film però ecco solo questo per dire per ottenere ad esempio effetti particolari notturni di luci quindi c'è l'analisi della notte l'acqua il mare il bosco queste cose qua appunto sempre fondamentali nella descrizione di quello che si vuole ottenere poi naturalmente c'è l'uso della matita acquerellabile che dà un altro che dà altre modalità e altre e altre possibilità di lavoro questo è un altro esercizio in cui si parte dalla matita acquerellabile e lo si termina con degli acquerelli questi sono tutti esercizi scolastici non sono miei lavori personali appunto sono eseguiti da me ma sono sempre fatti in classe qua invece appunto c'è un'altra variante dove l'illustrazione si rifà qualcosa anche di più realistico di più legato al mondo in questo caso dagli ignomi classico fantasy così e anche un po' per non solo per imparare la tecnica ma essere legati un po' al mondo realistico significa approfondire gli aspetti anche più complessi poi attraverso lo studio anche della composizione si arriva in qualche modo a capire meglio come come anche sintetizzare queste forme cioè questo ad esempio può andar bene per un target di un certo tipo mentre invece magari per un per dei bambini di cinque anni lo stesso personaggio andrebbe completamente riprogettato e infatti all'interno del corso ci sono queste ci sono appunto docenti predisposti a studiare il character designer in maniera molto approfondita in base ai target in questo senso poi un altro esempio importante è l'applicazione ad esempio questo è un esempio di scale cromatiche pensate secondo una logica ben precisa con un piccolo bozzetto a parte dove questa scala cromatica viene esattamente applicata su un lavoro figurativo quindi qui c'è la teoria in sostanza perché e come si arriva a questo cercando di capire il funzionamento della luce di come funzionano i colori anche di cosa di cosa accade nella fisica proprio naturale per poi appunto applicarlo a un dipinto con considerando appunto limiti e pregi del lavoro questo naturalmente è solo un bozzetto che rispetta però le variazioni di sfumature di tutto di questa scala cromatica precisa questo è molto importante qui poi ci sono altri due esempi particolari dove ad esempio qui si parte da una massa cioè di colore non si parte dalla linea ecco questo è una tavola sempre di esercizio in cui oltre che spiegare l'aspetto della teoria del colore applicata ho cercato di far capire come appunto sempre ci sia questo rapporto tra campitura e linea che va sempre pensata ed è qui che l'allievo in realtà comincia a rendersi conto di quel che sta facendo perché appunto c'è la possibilità di capire a volte che un lavoro può essere fatto anche solo così a masse cioè qualcosa di inedito che magari non si pensava di poter fare lo si scopre attraverso un cambiamento di abitudine manuale questa è la forza appunto secondo noi di partire da una preparazione tradizionale manuale e poi affrontare le nuove tecniche quello secondo noi è la cosa veramente estremamente importante ecco poi andando avanti naturalmente faccio vedere qualche altro esempio anche un po' più complesso poi naturalmente questa è una tavola ad esempio di un esercizio a tempera ecco dove appunto si notano le varie differenze però dove anche ci sono possibilità di partire non solo dalla linea ma ripeto ancora dalla massa naturalmente poi con anche considerando delle analisi come si fa anche un po' nel fumetto di contrasti di chiaro scuro mezza tinta di come si fa anche a progettare quindi a livello molto sintetico e anche come utilizzare delle tecniche miste qui appunto c'è una parte dipinta che contiene poi dei segni che possono diventare linguaggio o anche essere tolti diventare molto più precisi più piatti o addirittura creare solo esclusivamente situazioni espressive grafiche solamente di questo tipo una variazione di questo potrebbe essere appunto un lavoro di questo tipo dove c'è un misto di acrilico molto molto diluito alcune parti vengono accentuate in pasta e poi le matite fanno da coadiuvante fanno da complemento per per essere poi concluso il lavoro questi sono sempre appunto esercizi vedete che qui c'è quasi una tecnica quasi divisionista in questo modo di usare la matita quindi queste grandi variazioni sono sempre tenute in considerazione ovviamente poi ogni singolo allievo fa le sue scelte naturalmente naturalmente l'importanza ovviamente anche di un progetto di capire un po' la struttura generale appunto delle ombre questa è la prima fase di un dipinto che appunto contiene matite contiene è la bozza il monocromatico che poi contiene anche un po' l'atmosfera generale eccetera per poi entrare di più nel dettaglio e poi ultimare in maniera qui è sempre molto abbozzata perché a volte gli esercizi sono anche fin troppo veloci ma anche questo rapporto tra velocità e lentezza è molto è sempre molto curato durante i corsi e quindi poi ognuno dal metodo che riceve lentamente nel tempo poi lo personalizza e crea quello che desidera insomma questo naturalmente è lo stesso procedimento che questo bozzetto velocissimo fatto appunto in acrilico ha lo stesso poi procedimento che può avvenire anche per il digitale finché appunto si arriva ad esempio non so a questo che è proprio diventa una sorta di pittura classica dove appunto si comincia ad affrontare questo è un acrilico ma si comincia ad affrontare appunto quello che è la base proprio accademica della pittura un altro esercizio specifico proprio accademico è proprio questo nel quale si cerca di questo è non finito ovviamente sempre un esercizio scolastico dove però c'è la copia dall'antico c'è lo studio di quello che è appunto l'accoglimento la bozza eccetera fino al definitivo anatomico e quindi si studia anche l'incarnato dipinto naturalmente tutto questo però non riguarda solo ed esclusivamente l'aspetto figurativo nel senso così accademico ma accademico cinquecentesco ottocentesco del termine perché poi si possono utilizzare appunto altre varianti cioè con la stessa manualità trovare qualcosa anche di più grafico con aspetti più liberi naturalmente io sono un disegnatore un po' sporco e quindi utilizzo sempre una come dire una gestualità un po' distante dall'aspetto prettamente grafico della tinta unita ecco però passare da questo alla tinta unita è veramente un un lampo insomma un pochissimo tempo ecco poi qualche altro piccolo esempio potrebbe essere interessante vedere ad esempio la gestualità della matita le possibilità della matita querellabile ma anche appunto le possibilità su carte differenti di ottenere anche materie completamente astratte pittoriche ecco questo nella sperimentazione manuale è decisamente molto molto utile perché pensassi lo si può perfettamente riprodurre anche con il digitale giustamente però la casualità all'interno di questo tipo di sperimentazione è molto ben difficile se non impossibile con il digitale fino ad arrivare anche a cose non so a cose un po' più anche di questo tipo sempre un po' sporcato ma che permette anche un certo tipo di raggiungimento di precisioni che in altri che dipendono molto anche dal così anche dal gusto dell'allievo ecco comunque questi mi ha fatto una carrellata velocissima concludo ad esempio la carrellata dei disegni con questo ultimo esercizio in cui analizzavo le differenti modalità di pittura in cui analizzavo i tre principi della pittura cioè i contorni praticamente i chiaroscuri interni i chiaroscuri esterni il rapporto della luce esterna come influenza la luce interna e con una differenza anche sostanziale cioè creando anche due cose completamente distanti due linguaggi distanti che però nell'autoanalisi della materia che si tratta della sperimentazione uno comincia poi ad applicarli anche in linguaggi completamente differenti e questo è un diciamo era un modello di pittura più vicina diciamo al modello seicentesco fatta naturalmente sempre bozze molto veloci però hanno lo stesso identico procedimento che valgono anche per la pittura ad olio per appunto capire anche il funzionamento della luce di come si applica il colore vedete qui si vede ancora la matita anche questo prima era fatto a matita così e poi alla fine poi si arriva un po' a una sorta di precisamento di precisazione di incarnato sempre sempre con lo studio cromatico applicato a un dipinto poi a come si muove anche la pennellata cioè tutte queste cose qui che possono essere naturalmente più o meno imparate più o meno esercitate anche per poi andare su linguaggi di questo tipo è chiaro che se uno conosce questo aspetto qui poi sarà più avvantaggiato a appunto affrontare questo ecco solo due secondi che mi sposto faccio vedere alcuni aspetti interessanti che uso spesso anche per far capire il rapporto tra spazio e segno cioè il modo con cui io muovo proprio la matita cerco modello ecco io adesso non so se fare un volto o un corpo può essere anche tutto dopo naturalmente viene direzionato e in qualche modo lo questo modellato va sulla base di una geometria però la geometria è posta come in secondo piano e poi uso la linea e creando questo tipo di ecco io lo sto facendo appunto con una matita querellata e appunto con la linea e il chiaroscuro insieme vado a cercarmi la mia forma non parlo molto ecco il rapporto appunto tra campitura e questo crea proprio una vera e propria texture appunto il rapporto con la texture che dopo starà a me naturalmente decidere se poi anche unire questo tratto a qualcosa di molto più grafico per esempio così tenere aspetti pittorici e aspetti grafici insieme facendo un piccolo esempio molto libero di grafici grafici e aspetti di questo tipo e e poi avviene appunto il scioglimento del colore come che aumenta la possibilità sia di educazione della gestualità la pennellata ma anche di vedete che posso sfregare il pennello in maniera anche semi asciutto creando un chiaro scuro e un'atmosfera assolutamente ecco questo sfaldare e ritornare sulla forma rappresenta uno questo è un piccolo esercizietto in cui si si ragiona sul rapporto tra linea grafica aspetti pittorici puramente gestuali più pseudo realistici poi naturalmente questo lo potrei anche come dire finire in questo modo lasciare anche in questo modo o oppure essere la base per qualcosa di anche più invece più controllato e più vicino anche a un'illustrazione invece vedete la modalità col quale la differenza proprio pura che si usa nella nella linea con la differenza con proprio la massa che che è anche molto più veloce da fare poi questo appunto invece ci sono aspetti appunto più lineari magari appunto dello stesso personaggio tradotto anche la differenza abissale di di soluzione poi di soluzione proprio anche espressiva grafica di ricerca di linguaggio in cui qui appunto la linea assume un'altra valenza adesso io ovviamente sono un vecchio concept artist e di conseguenza sono portato a fare sempre soggetti di questo tipo ma naturalmente questo questo tipo di ricerca anche stilistica e di linea poi cambia anche in base al target perché naturalmente appunto esistono siamo affiancati a docenti che hanno esperienza nell'ambito della illustrazione per ragazzi per bambini per il magazine eccetera e che appunto sono in grado di di insegnare proprio anche di portare la loro esperienza per capire proprio anche non solo come scoprirsi ma scoprirsi e potersi anche immettere in un mercato specifico eh adesso mancano quasi dieci minuti alla fine di questo incontro e quindi eventualmente eh io chiamerei Stefano all'appello eventualmente o se qualcuno ha da porre delle domande eh particolari rispetto a quanto io ho detto finora eccoci qui Vittorio mi senti? Sì grazie ok sì 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 adesso Beh in streaming eh ovviamente i saluti moltissimi complimenti ma insomma io rimango sempre comunque colpitissimo nonostante ormai un tempo in memore eh da cui noi ci conosciamo e vediamo i reciproci lavori mhm direi due cose forse che vengono un po' dall'esperienza nel triennio a cui risponderei tu ovviamente si utilizzano materiali che sono i materiali differenti perché tu spesso già in questo momento hai citato l'acquerello per una questione di praticità però utilizzeremo tutti i media se vuoi dire due parole a riguardo Sì sì no 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 forse non l'ho specificato ancora bene ma si usano acrilici acrilici tempere guazzi perché c'è differenza tra tempera e guazzo ovviamente sono due cose sono due varianti sottili ma esistono e poi anche l'olio la pittura d'olio e poi da lì avendo questo tipo di preparazione naturalmente facciamo un'introduzione anche appunto con Alberto Dallago alla all'illustrazione digitale poi al disegno digitale naturalmente illustrazione cioè tu sai benissimo la nostra scuola fondamentalmente vende metodi sostanzialmente per rendere indipendenti le persone poi c'è uno non può pretendere di diventare Raffaello Sanzio in due anni ovviamente no cioè quindi la sperimentazione di così tanti medium necessita poi che uno poi sia indirizzato verso uno lo approfondisca e consiglio sempre un quarto anno di specializzazione nel digitale o nella colorazione o nella pittura proprio digitale risulta ormai obbligatorio io spero che il corso è triennale però io lo farei quadriennale ma comunque questo poi uno lo capisce poi sicuramente però appunto tanto per concludere il discorso è c'è una parte i problemi della pittura si risolvono risolvendoli nel disegno soprattutto cioè se si impara la modalità del disegno allora automaticamente si risolvono i problemi della pittura e la si impara meglio non si può pretendere di non disegnare cioè di non capire i fondamenti del disegno questo rapporto che parlo sempre di forma spazio segno colore eccetera se non appunto poi vengono applicati alla pittura non c'è pittura senza disegno sostanzialmente quindi tutte le pitture tutti i medium vengono affrontati un'altra questione che spesso i nostri allievi ci chiedono è che noi in realtà poi ti lascio spazio ovviamente partiamo da zero per tutti specifica anche tu che non ci può essere quel cliché pesantissimo e devastante di ho 37 anni sono in ritardo ne ho 21 sono in ritardo c'è anche chi viene ho 16 anni ormai è tardi no a volte invece è proprio utile avere qualche anno di maturità in più in realtà proprio per uscire anche dai il cliché ad esempio è un modello è un modello che dà sicurezza in qualche modo e quindi lo cerchiamo automaticamente psicologicamente io invece prima ho detto che il nostro corso è proprio per cambiare idea per dare discontinuità per distruggere dei cliché e poi tornarci e ripensarci nel fare questo procedimento a volte è più facile farlo con uno che ha più anni anzi alle spalle perché in qualche modo è meno influenzato anche dall'esterno anche se lo siamo tutti però naturalmente è fondamentale per chiunque sia dal 17enne 18enne che vuole per forza fare draghi alla maniera di Forster o eccetera 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 sia anche per l'operaio che per sua passione vuole cominciare a disegnare però dice ma io ho 50 anni non so se ho tempo per fare le robe così no, in realtà con il metodo partendo da zero personalizzandolo entrambe arrivano a dei livelli ma poi voglio dire la pittura ha questo vantaggio anche a differenza a volte della musica che i risultati maggiori li hai proprio lavorando di più anche più nel tempo cioè più vai avanti con l'età in realtà più migliori anche più aumenti anche la libertà che hai nel disegno cioè cominci a distanziarti un po' dal tipo ma voglio fare questa cosa perché questa cosa anche piace agli altri no, c'è anche distanziare da questi aspetti psicologici da proprie aspettative personali che influenzano invece bisogna disegnare assolutamente liberi da influenze sia esterne ma anche interne da noi cioè devo fare sai Stefano quando si dice io sarò bravo a disegnare quando farò quello che ho nella mia testa ma nella tua testa che cos'hai esattamente hai un'immagine vaga di qualcosa che speri che ci assomigli bisogna uscire da questa illusione totale bisogna invece entrare in una modalità di metodo che ti permetta di scoprire delle cose inedite che dici sì ho pensato una cosa sono partito da quella ma ne è venuta fuori una decisamente migliore cioè tipo anche un po' muovere questo tipo di mentalità Paola in chat ci dice e 50? beh anche 50 posso rispondere anche io che sono over 50 da un pezzo tra i nostri allievi l'età media proprio dobbiamo ogni tanto ce la chiedono è tra i 18 e i 35 ma abbiamo avuto allievi di 50 un paio di straordinari più vicini ai 70 che ai 60 che erano incredibili le classi sono veramente strane nel senso di età differente di mentalità differente ma con lo stesso obiettivo se c'è sperimentazione voglio dire e uno vuole scoprire veramente chi è lui nel disegno lo può fare a 70 anni 50 40 anzi si può levare anche parecchi sassi dalle scarpe magari non è mai riuscito in 20 anni a fare un corso di disegno capace di potergli dare degli elementi di analisi capire proprio usare il disegno come mezzo di conoscenza prima di tutto di se stessi per poi entrare anche eventualmente nel mondo del lavoro questo è il corso che si fonda su questi principi il nostro corso tu sai benissimo che ci abbiamo impiegato a perfezionarlo anche negli anni in base alle trasformazioni per arrivare qui in sostanza quindi non esiste limite di età e limite di un risultato si arriva sempre ci si adatta ci si sì la cosa poi che ci piace sempre sottolineare è che tu sei il coordinatore come esiste un coordinatore in tutti gli altri corsi ma poi c'è questa cosa che ricorda proprio la bottega artigianale quello che dovrebbe essere l'accademia di un tempo che è poter incontrare altri insegnanti che ovviamente condividono un percorso didattico ma che hanno mentalità modalità editori capacità completamente diverse ed è chiaro che questo gruppo corpo docente per quanto coeso dà indicazioni differenti così come le daranno gli editor diciamo per esempio fra le cose interessanti del corso che alla fine di ogni anno tranne il primo anno si arriva alla fine con un book che noi abbiamo ovviamente insegnato a fare per lo meno nel corso di illustrazione perché ogni corso poi ha le sue modalità che viene indicato in trentesimi chi ha i quattro voti migliori di ogni corso quindi quattro anche illustrazione pagano meno l'iscrizione l'anno dopo perché comunque rimane un lavoro sempre meritorio il secondo e il terzo anno invece noi invitiamo una o due persone che sono esterne alla scuola e quindi c'è una sorta di come incontro di lavoro quando si va a far vedere il proprio lavoro agli editor che ti chiedono di giustificare le tue scelte cromatiche stilistiche e sia quindi come dire un'esperienza diretta di quello che sarà poter parlare con un editor di una casa editrice e capire come muoversi perché poi noi se vuoi usare un po' un minuto per spiegare che non ci limitiamo ovviamente solo la parte pittorica che è una parte fondamentale no 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 la parte pittorica scusami riguarda proprio il discorso della sperimentazione ma poi c'è la personalizzazione cioè ogni allievo va verso dove ritiene anche il mondo più adeguato per lui e lo si segue a questo livello e poi c'è un confronto anche con l'esterno quest'anno era previsto appunto anche un laboratorio di editoria di altissimo livello con Paolo Canton della appunto che rifaremo senz'altro l'anno prossimo editore di topi pittori ed espertissimo appunto nella parte delle scienze tipografiche no ad esempio ci sono tante tante correlazioni con l'esterno in modo tale che l'allievo possa avere contributi e confronti col mondo vero del lavoro anche come prepararsi alla fiera ma durante gli esami può anche chiedere ai professionisti anche semplicemente lei come è partito che anni secondo lei come vede anche il prossimo futuro il prossimo anno per uno come me con questo tipo di portfoglio lontano dagli insegnanti che lo hanno seguito tutto l'anno questo confronto ci deve essere sempre ma la scuola fa costantemente delle appunto delle attività complementari esterne proprio per andare a sopperire diciamo così una possibile anche chiusura di porte di possibilità aperti sempre a questo confronto aggiungo Vittorio che c'è anche una parte ma solo al terzo anno in cui si capisce anche come in particolare poi visto il periodo che stiamo vivendo cioè come rappresentarsi da un punto di vista proprio dell'organizzazione web della gestione dei social che sono ormai visti come un modo di lavorare potentissimo e il marketing come promuoversi perché ormai noi non siamo solo più passami termini artisti ma siamo anche dei piccoli imprenditori che devono farsi vedere in giro per il mondo ma è per questo perché serve l'estetica cioè anche la coscienza della filosofia cioè nel senso capire che i meccanismi dell'estetizzazione capire i meccanismi del mercato dell'arte dell'illustrazione della produzione dell'immagine significa capire anche come fare un proprio brand perché ormai da soli non si riesce più quasi a volte gestire la propria immagine o la propria immissione c'è bisogno di persone anche specifico o magari di affiancarsi anche come fare un sito eccetera io non saprei neanche da dove partire lontanamente voglio dire infatti si vede anche dal mio sito ma al di là di quello cioè al di là di quello un ragazzo giovane e tutto deve capire che se vuole entrare è come mettere su un'azienda come anche se vuole entrare in determinati campi industriali di produzione dell'immagine deve creare una propria immagine un proprio brand e quindi vero e proprio ma qui c'è ci sono insegnanti predisposti per fare questo esperti insomma che spiegano addirittura anche come si gestisce l'amministrazione personale cioè che cos'è una partita IVA qual è attualmente che cosa sono i diritti d'autore come si gestiscono i rapporti con l'associazione ad esempio degli illustratori italiani non so rapporti noi facciamo tutti questi contatti proprio anche legati alle fiere dove andare come fare almeno tentiamo il più possibile dopo naturalmente sta al singolo prende la propria responsabilità e gesti qui non stiamo mica in una scuola voglio dire non stiamo alle medie che devi fare il compito in classe così prendi la responsabilità corri il rischio segui le istruzioni poi vedi i risultati chiaramente questo per mettere in chiaro sempre poi io preciso lasciamo i nostri i nostri come dire spettatori del momento che il nostro è un mestiere straordinario però anche per un motivo noi possiamo rimanercene a casa nostra spedire i nostri lavori dall'altra parte del mondo e controllare anche il bonifico che dovrebbe arrivare per quel lavoro senza doverci spostare fisicamente che è una cosa non indifferente approfitto per rispondere a Barbara che e confermo che il nostro video il video di presentazione del corso di illustrazione di Vittorio Bustaffa rimane contrariamente ai video di Instagram che dopo 24 ore se ne vanno quindi è consultabile per sempre più o meno per sempre e vi informo anche se in chat è stato scritto che il 24 e il 25 e il 26 noi faremo il nostro primo a questo punto Open D-Day Digital Day quasi uno sbarco in Normandia venerdì ci saranno sei corsi sabato sei corsi e domenica altri sei corsi dalle 18 alle 19.30 andranno in contemporanea tre su Facebook e tre in Instagram abbiamo provato a dividerli in modo che chi si è interessato a un corso come illustrazione normalmente non va a vedere che cosa si fa a music production per videogame a perlomeno a rigore di logica ma potrebbe anche non essere così e scusami Vittorio comunque riproporemo a social invertiti in modo che tutti i corsi vengano presentati su Facebook e tutti i corsi vengano presentati anche in Instagram Vittorio se tu vuoi concludere questo quest'ora di incontro e di presentazione io dico solo l'ultima cosa le iscrizioni partono da maggio noi ci saremo come detto all'inizio fisicamente a scuola perché noi siamo una bottega artigianale nel caso ci dovesse essere qualche problema però siamo attrezzati e saremo ancora più attrezzati perché stiamo lavorando tantissimo davvero come quasi tutti credo gli italiani alla cremente la parola corretta con gli amici che ci aiutano i professionisti per rendere le lezioni online più piacevoli e più umane anche perché l'assenza di contatto è una cosa veramente petante per tutti noi anche per chi come noi fa un mestiere dove è abituato a stare da solo nella sua celletta francescana felice e ti lascio la parola per il saluto e ringrazio a tutti grazie a te Stefano grazie di questa possibilità naturalmente io stesso rimango a disposizione per chiarire eventualmente dei dettagli che possono essere sorti durante questo incontro che tutto sommato è anche stato molto breve di questa carrellata fatta se qualcuno vuole scrivermi su Facebook o anche appunto direttamente alla scuola o chiedermi così sono a disposizione e niente poi per concludere posso dire questo la creatività dal mio punto di vista rimane una delle risorse per il futuro cioè o cominciamo ad avere una mente fluida e quindi a capire anche di muovere e di capire veramente come gestire la creatività in un senso di cambio di mentalità di cambio di quindi creare queste discontinuità come dicevo prima quindi ha un valore enorme secondo me fare anche solo dei corsi così di pittura di disegno di fumetto eccetera proprio anche per sviluppare una mente un po' più diciamo fluida e adeguata la situazione tutto qua ecco e quindi ringrazio ancora tutti e io adesso non so più cosa dire più di così no è stato esauriente esauriente rimango a disposizione ecco così nel caso magari dopo esauriente e potente sul foglio come sempre dopo tanti anni come detto prima si rimane sempre colpiti per la grazia soprattutto per l'originalità con cui tracci le tue linee io ringrazio tutti vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 18 su facebook e instagram la pubblicità è già partita quindi sapete dove andare a guardare ancora un saluto a Vittorio buona serata grazie grazie veramente a tutti bocca al lupo per tutto ciao grazie a tutti grazie a tutti